Assessore Godio, con l'orario estivo 17 giugno, la Rona Santiavera soppressa e ci saranno i bus sostitutivi. La provincia che ruolo avrà in questa situazione? Innanzitutto mi sento di dire che siamo vicini ai pendolari per il disagio che gli sarà procurato per questa soppressione delle linee ferroviarie. Noi come provincia saremo autorizzati dalla regione a creare dei pulmi sostitutivi e quindi abbiamo ricevuto venerdì la determina regionale dove appunto obbliga le province a creare il servizio sulla gomma. Quindi noi in queste ore stiamo facendo una sorta di valutazione degli orari e dopodiché andremo a programmare il trasporto pubblico. Ecco, cosa succederà però? Il problema è lo snodo di Romagnano in cui poi si passa alla provincia di Vercelli. Cosa succederà in questo caso? Beh, succederà che in questa fase noi garantiremo il trasporto da Rona a Romagnano e da lì l'utente dovrà cambiare pulmo, prenderà un altro pulmo che lo porterà a Santia e poi da Santia salirà sul treno per continuare verso Torino. Noi stiamo lavorando congiuntamente con la provincia di Vercelli per creare le migliori condizioni e per creare il minore disagio possibile.